Sul piatto della bilancia c'è tanto per dire la Leone in contorsi con quello che è successo, cioè manca la controfirma del capo dello Stato per la nomina del commissario all'acta. Lei che cosa ne pensa di questa situazione? Dottor, io penso che è solo vergognoso, veramente ve lo dico con molta sincerità. E non lo so che il Presidente Napolitano, un autorevole personaggio, solo il fatto forse che è Campano, si è inventata nel cilindro quest'altra cosa che non si spiega, che non si riesce a capire, noi parliamo di piattaforma logista, dobbiamo avere subito adesso immediatamente il trasporto su strada, su gomma, se non facciamo la Bredella che collega all'autostrada, sulla Leone contaminante, di che piattaforma vogliamo, i soldi ci sono, pronti, revocano il commissario, e danno la Povincelli per l'acqua, devenderla, il Presidente della Repubblica, con tre Ministri, con Presidente del Consiglio, che ripara una vergogna, una vergogna di un decreto non nominato al commissario dell'ANAS, se ne sono accorti di questa vergogna, rimediano e il Presidente della Repubblica non filmano. Guardate, è allucinante. Io dico, ma la politica esiste in questa provincia, la classe dirigente dov'è? I sindaci, tutti noi, quando ci muoviamo? Ma quando ci muoviamo? Sono perfettamente d'accordo con lei, ha perfettamente ragione, è una situazione insostenibile, non si spiega nemmeno in nessun termine, né in termini politici né in termini formali, giuridici, perché la controfirma non significa praticamente entrare nell'atto, nella volontà dell'atto. La controfirma è soltanto un fatto puramente e semplicemente formale. come vede in prospettiva l'Avvenire dell'Ufida? Io l'Avvenire dell'Ufida la vedo buona, perché non solo è baricentrica, con l'uscita dell'autostrada è un fatto importante, che poi anche quella su ferro è tutto un discorso all'era della di Avenida, perché pure se si fa la stazione, lei mi insegna che poi ci sono gli abbattimenti dei costi. L'alta capacità è per le persone, attenzione, perché poi quando vendiamo le cose che non esistono, poi ci vuole un ammortamento dei costi e dei vacuni, non voglio portarla a piedi, che non sui vacuni. Allora voglio dire, oggi da subito con legamento all'autostrada, apriamo e vedo uno sviluppo rosso, perché il terreno si presta, le materie prime stanno in questa zona, l'acqua c'è, ed è anche una zona pianeggiante, bellissima.